di cervello. Garantire agli studenti siamo a Pisa di entrare e uscire da scuola in sicurezza, è il caso questo della scuola primaria Filzi, dopo gli appelli dei genitori ora il comune ha deciso di intervenire, vediamo come. Abbiamo trovato questa soluzione che per ora è temporanea in attesa di poter fare una soluzione definitiva, però è già efficace per quanto riguarda questo aspetto. Ausiliari del traffico in azione durante l'uscita degli alunni dalle scuole primarie Filzi in via Leonardo da Vinci a Pisa. Dopo le segnalazioni per il traffico caos da parte dei genitori della dirigente scolastica e degli stessi residenti del quartiere, l'amministrazione comunale ha deciso di ripetere quanto già fatto alle scuole Newberia Marina di Pisa. Ausiliari del traffico e viabilità interrotta per circa un'ora all'altezza dell'incrocio con via Padre Fedi. Un problema che ci avevano già esposto i residenti della zona è anche la direttrice scolastica che abbiamo risolto con l'ausilio degli ausiliari del traffico che presidiano le transenne all'inizio della strada proprio per garantire una maggiore sicurezza ai bimbi delle scuole e soprattutto anche assicurare i residenti per la problematica che avevano presentato.